L'aglio del roso L'aglio del roso L'aglio del roso per la parte di corretta l'ordine di notizia e poi avverificare l'ordine di notizia E poi avverì, e poi avverì, o que l'olio, o que l'olio, e poi avverì se ti dimostra a morir. L'aio di rosa te farà morir, l'aio di rosa te farà morir, che farà morir, o que l'olio, che farà morir, o que l'olio di rosa te farà morir, o que l'olio di rosa. Grazie.